sorpresa ciao a tutte prima di mostrarvi il contenuto di questo profumatissimo pacchetto che mi arriva da questo sito che è anche un negozio fisico a mantova devo farvi una piccola premessa per spiegarvi cosa è successo due giorni fa ricevo un messaggio da parte di christian di carta zucchero bio il anche qui negozio fisico e e commerce di reggio emilia che mi dice ciao francesca spero tu stia bene sappi che sarai contattata da manuel in curiosità aspetto il contatto da parte di manuel altra piccola premessa io christian emanuel avevo avuto l'occasione di conoscerli di persona in una fredda giornata fredda e nevosa giornata di credo febbraio dell'anno scorso quando ero stato a trovare sonia era stata poi l'occasione di incontrarci anche con monica insomma in quell'occasione ero stata in negozio e c'erano loro tutti e due e siamo stati dentro il negozio talmente tanto tempo quel sabato pomeriggio che abbiamo creato la condensa sulle vetrine non ce ne volevamo più andare insomma ricevo questi mail da manuel nel giro di una mezz'oretta perché è stato veramente velocissimo e mi dice che cosa che io non sapevo e che ho appreso con molta gioia che ha aperto un negozio fisico e successivamente poi anche l'e commerce quindi anche lui una sua bio profumeria a mantova che è stata aperta il 22 ottobre del 2015 e a partire da giugno di quest'anno ha aperto appunto anche l'e commerce questo me lo diceva per propormi anche una collaborazione e quindi mi ha detto se ti fa piacere io ti manderei una un pacco a sorpresa con alcuni prodotti da farti provare in più mi piacerebbe anche gratificare chi ti segue con uno sconto con un quindi in con un codice sconto più un omaggio relativo al mondo del make up naturale e ho detto allora innanzitutto manuel sono felicissima di questa tua nuova avventura in secondo luogo come faccio a rifiutare un'offerta così gentile sia per me ovviamente ma anche per chi mi segue e quindi questo è l'antefatto per spiegarvi perché c'è questa meravigliosa e profumatissima scatolina che mi attende come vedete il correre me l'ha portato da poco è ancora sigillata con questo bel nastrino verde quindi adesso munita di forbice la apro insieme a voi e ne scopro il contenuto allora innanzitutto la prima cosa che vedo è questo sacchettino dove presumo ci siano dei campioncini io vorrei che tramite youtube si potessero sentire anche gli odori perché voi non potete capire il prossimo di questa confezione aspettate che mi sia capottato tutto un attimo allora allora questo è il biglietto da visita naso botanico si chiama perché bio profumeria d'autore perché ovviamente ci sono sia prodotti di cosmesi che di make up che anche fragranze infatti è profumatissimo questo pacchetto ciao francesca mi auguro che queste coccole biologiche ti possano regalare dei momenti piacevoli un abbraccio e grazie ma grazie a te manuel allora poi qui c'è il profumo del giorno è rouge avignon di fedon non so come si lega comunque questo è ed è profumatissimo poi allora quello che ho trovato in nel sacchettino dei campioncini era questa ampollina di melvita che contiene un campioncino riesco a tenerlo del loro olio per il corpo l'or bio benissimo non ho mai trovato ma ne ho sempre sentito parlare benissimo poi c'è un fondotinta bioattivo di liquid flora anche questo non ho mai provato melvita extraordinaire jeunesse questo è un prodotto di quello già provato dei campioncini e che adoro melvita largan bio olio corpo qui poi c'è un campioncino di crema mani del doctor ausca sapete che il doctor ausca fa sempre dei campioncini super ultra fighissimi e poi c'è questa cartolina di nuori che è una marca di cui ho sentito parlare ma che non conosco ok e questo è quello che c'era nella busta dei campioncini adesso andiamo ad esplorare oddio il contenuto di questa magnifica scatolina allora qui abbiamo le flore al de rose della melvita in questa mini taglia carinissima da non so quanti ml da 28 ml eccolo qui ok poi altra mini taglia queste travel size tra l'altro sono comodissime di lozione a dolcente corpo ai fiori di cotone di mater natura prodotto che io non conosco e non ho mai provato benissimo poi acqua micellare anti age 5 in 1 di domusole a toscana altra mini size bellissima io adoro le mini size perché è un ottimo modo per provare dei nuovi prodotti senza impegnarsi troppo in qualche modo e sono ovviamente molto comodi anche da come dire per poter riutilizzare anche poi le boccettine mettendoci dentro anche qualcos'altro una volta finito il prodotto poi ecco qui un prodotto di nuori però non capisco bene che cosa sia c'è scritto free sample e vabbè e fin qui ci siamo fresh skin care questo dovrò chiedere che cos'è perché non capisco bene comunque questo prodotto di nuori ok perfetto quindi proverò anche questa nuova marca qui abbiamo john masters organics urcala geranium and grapefruit body milk quindi anche qui una mini taglia di crema corpo fantastico poi abbiamo quella che immagino sia una saponetta presumo con lemon grass e sapete che a me le profumazioni aggromate piacciono un sacco adesso se riesco senza spaccarmi le unghie ad aprire la scatoletta vediamo se ce la faccio guardate come bella la confezione praticamente dentro la scatoletta c'era quest'altra scatoletta quest'altro vassoietto diciamo in cartone e qui a volte in questa carta c'è appunto proprio la saponetta veramente packaging molto molto fico eccolo qui e questa è la saponetta che tra l'altro profumo tantissimo bene poi non è ancora finita perché qui c'è la candela le candele naturali che bello non le ho mai provate queste qui di biofficina toscana che figata fantastico questa la proverò veramente con tanta tanta curiosità questa è la sinergia purificante eccola qui con tre stoppini fantastico infine trovo un olio trattante rosa olio armonizzante per il corpo donna conforto e sollievo del doctor ausca bene e quindi io sono stata in questo modo molto ricco e gentilissimo viziata da parte di manuel che ovviamente saluto e ringrazio tantissimo a cui auguro la miglior fortuna possibile sia per l'e commerce che per il suo negozio fisico a mantova ovviamente con il tempo proverò tutte queste cose meravigliose e man mano vi farò sapere vi lascio nell'info box il codice sconto che è chicca 10 scritto tutto minuscolo comunque vi lascio tutto nell'info box il sito ovviamente dove potete andare a curiosare tutte le marche ma qui ce n'è già come dire un buon campionario diciamo perché manuel mi ha mandato veramente tantissimi prodotti di tantissime marche diverse e quindi ripeto vi lascio tutto nell'info box con tutte le informazioni del caso e niente io ovviamente spero che questo questa promozione questo codice sconto con omaggio faccia piacere anche a voi mi auguro perché è stato un pensiero veramente molto gentile ringrazio tantissimo ancora manuel gli mando un bacio e ringrazio voi per aver guardato questo video vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao